Nei giorni 11, 12 e 13 settembre prossimi a Ferrara si disputerà la 35esima edizione dei campionati italiani sbandieratori e musici categoria A1. Le gare saranno ospitate nel centro storico della città estense nella piazza municipale e in piazza Savonarola. Venerdì 11 settembre con inizio alle ore 20 nella piazza municipale è programmata la cerimonia d'apertura dei campionati mentre le gare inizieranno il giorno successivo. Sabato 12 settembre al mattino dalle ore 9 sono previste le qualificazioni nella specialità del singolo tradizionale, della grande squadra e la gara dei musici. In serata dalle ore 21 le finali di queste tre discipline. Domenica 13 settembre qualificazioni in mattinata della coppia tradizionale e della piccola squadra e in serata le finali. Al termine seguirà la cerimonia di premiazione dei vincitori di tutte le specialità. I gruppi che si sfideranno nei prossimi giorni a Ferrara e che rappresentano la serie A dei sbandieratori d'Italia sono l'ente palio della città di Ferrara, associazione musici e sbandieratori città murata di Montagnana a Padova, il sestiere porta romana di Ascoli Piceno, il sestiere porta solestà di Ascoli Piceno, il gruppo storici musici e sbandieratori di Megliadino San Vitale a Padova, il gruppo sbandieratori e musici palio di Micci a Querceta, provincia di Lucca, il gruppo sbandieratori e musici di Rione Lama di Brindisi, gli alfieni bandieranti e musici del palio del Nibalo di Fenza, l'ente culturale cittareggia di Cava dei Tireni in provincia di Salerno, il sestiere porta maggiore ancora di Ascoli Piceno, l'associazione dei rioni di Copparo Ferrara, il gruppo storico sbandieratori e balestrieri città di Volterra in provincia di Pisa, la casa normanna rione vecchia matrice Monte Sant'Anastasia di Catania, il rione Santo Spirito di Ferrara, il borgo San Giovanni di Ferrara, il rione Santa Maria Invado di Ferrara, il borgo San Luca sempre di Ferrara, la SD Cittadoria in provincia di Brindisi, il gruppo sbandieratori e musici Principi da Caglia Fossano in provincia di Cunio, il borgo San Panfilio di Sulmona in provincia dell'Aquila. A difendere i colori di Fenza saranno una quarantina di atleti, per la specialità singolo il rione nero con Paolo Emiliani e il borgo Durbecco con Lorenzo Rinaldi, per la specialità coppia il rione nero con Paolo Emiliani e Rodrigo Ceroni, il rione rosso con Edoardo Caselli e Raffaele Rampino Junior. Nella piccola squadra parteciperanno i portacolori del rione nero, Paolo Emiliani, Enrico Emiliani, Rodrigo Ceroni, Manuel Galtieri, Francesco Sant'Andrea e Fabrizio Mingo. Nella specialità grande squadra e musici ancora il rione nero che ha dominato le gare di Piazza del Popolo, Paolo Emiliani, Rodrigo Ceroni, Enrico Emiliani, Francesco Sant'Andrea, Manuel Galtieri, Fabrizio Mingo, Alberto Morini, Andrea Casadio, Luca Senni, Giacomo Fabri, Giulio Fabri e Luca Monducci. E i musici Martina Bonomo, Damiano Ceroni, Davide Drei, Francesco Laderchi, Alessandro Lotti, Andrea Mengozzi, Eugenia Rivoli, Tania Rossi, Leonardo Samori, Lorenzo Sansavini, Musa Bagnoli, Cinzia Bandini, Alex Crini, Vanessa Gottelli, Michela Lotti, Giulia Marini, Matteo Montanari, Alessandro Montuschi, Valentina Ravaioli e Pasquale Siciliano.